che abbiamo ascoltato per la prima volta proprio lì a Tarare è unica perché guarda me è un grado molto poco conosciuto e ci hanno cantato questi ragazzi di questa associazione che si chiama The House of Mare e c'erano un sacco di bambini di strada che ballavano e cantavano e sorpettavano ovunque con un grande grande sorriso su di come on come on no 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 oh yeah yeah it's hard to meet my brothers it's hard to meet my brothers it's hard to meet my brothers oh no 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 non c'è la loro vita Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.